facciamo una prova per sentire se in caso di bisogno riesco a sentirmi qualcuno mi tolga il mute dal microfono e mi dica qualcosa per cortesia salve prof mi sente? si sei? sono Dario de Bussuari bravo, grazie ad avere risposto perché è abbastanza poi ci abitueremo ma è abbastanza poco naturale parlare delle persone che non si stanno sentendo è vero, è vero vedo che ogni tanto qualcuno si collega, qualcuno esce dalla connessione aspettiamo ancora qualche minuto poi cominciamo ok, posso staccarmi? certo, gli altri tengano il mute in caso vogliano fare domande cercando di fare uno alla volta potete togliere il mute e fare domande com'è a legione siamo a 28 siamo a 28 intanto comincio a darvi qualche informazione di tipo logistico anche se non sono la prima ad aver iniziato a fare il corso in questo modo quindi avete probabilmente più esperienza di me la peculiarità di questo corso a differenza degli altri è che è un laboratorio e quindi è evidente che un laboratorio fatto in remoto non è esattamente immediato né da organizzare né da ripensare per cui in questo momento adesso noi cominceremo con le lezioni che avremo comunque fatto in aula e sto pensando ad una soluzione nel caso questa situazione dovesse perdurare oltre i termini descritti dall'ultimo decreto e quindi insomma sto cercando di pensare un modo per portare avanti il programma anche in condizioni un po' diseggiate il motivo per cui vi ho chiesto di se avete tutti disponibilità di un computer a casa a parte il fatto che non stareste in questo momento qui collegati però intendevo un computer che potete usare non semplicemente con un browser o con un client per vedere delle immagini e perché stavo pensando che potremmo fare lezioni non indifferita ma insomma vi si danno gli esercizi voi li fate e noi rispondiamo o su questo canale o in parallelo su un paio di canali Skype alle vostre domande man mano che siete in difficoltà con gli esercizi da fare questo durante l'orario di lezione è ovvio che se si riesce a tornare in aula siamo tutti contenti, ci vediamo in realtà forse tra qualche settimana una delle cose che desiderete di più al mondo è venire all'università invece di stare chiusi in casa però finché non si può cercheremo di fare nel modo migliore possibile pur nelle condizioni in cui ci troviamo tenendo appunto presente che siamo il laboratorio questo è il laboratorio del primo anno nella sfortuna la fortuna è che avessimo già finito le esercitazioni del laboratorio di dinamica perché quello è onestamente a meno di immaginarsi dei sofisticati sistemi di realtà virtuale con guantini, occhiali e caschi multimediali che peraltro non avrebbero portato poi agli stessi risultati non riesco ad immaginare come avreste potuto fare la caduta del grave in remoto comunque va bene io quasi quasi comincio pian piano tanto non vi dico niente di particolarmente difficile oggi oggi parliamo dell'organizzazione del corso e poi se come spero rimane tempo comincio a raccontarvi qualcosa sulle basi minime di informatica che vi voglio dare non perché questo al fine di questo corso di queste poche lezioni voi siate degli esperti di informatica ma per avere almeno una idea di base di che cosa ci sia dentro la scatola che state utilizzando quando utilizzate un calcolatore questa è la seconda parte del corso come vedete nell'immagine che vi sto trasmettendo ed è la seconda parte del corso è anche una evoluzione concettuale dell'approccio al laboratorio noi abbiamo fatto il laboratorio del primo anno in realtà utilizzando già sistemi informatici però teoricamente avreste potuto analizzare i vostri dati a mano o con un normale calcolatore tascabile qui invece partiamo ad immaginare che le esperienze di laboratorio che voi avete fatto possano essere concettualmente degli esperimenti veri e che i vostri dati possano essere immaginati poi in futuro come delle grandi quantità di dati che sono quelle che poi adesso si chiamano big data e di cui tutte le riviste e i giornali parlano quindi immaginiamo di avere delle grandi quantità di dati grezzi o perlomeno delle quantità non sufficientemente piccole da rendere poco noioso l'analisi dei dati grezzi che vogliamo analizzare utilizzando degli laboratori elettronici io cerco di utilizzare nei limiti del possibile l'italiano per evitare che poi non conosciate il significato delle parole inglese che utilizziamo in italiano gli laboratori elettronici sono quelli che si chiamano comunemente computer calcolatori e laboratori eccetera i nostri laboratori elettronici servono a noi per risolvere problemi ovvero li utilizziamo per tutte quelle operazioni che ci semplificano la vita o meglio ancora ci permettano di fare cose che non saremmo in grado di fare con sistemi manuali i problemi che noi vogliamo risolvere con questi laboratori elettronici sono soprattutto problemi nuovi perché sottolineo questo perché per problemi banali o problemi già affrontati migliaia di volte esistono un sacco di pacchetti pacchettini software commerciali gratuiti che vi forniscono gli strumenti per gestire i vostri dati ma visto che quello che noi vogliamo fare è imparare ad utilizzare questi calcolatori programmandoli perché facciano quello che vogliamo noi questo è il primo passo dell'utilizzo di un linguaggio di programmazione attraverso gli algoritmi adeguati per risolvere problemi nuovi quindi se il problema è un problema complesso nuovo non possiamo sperare di trovare in commercio o meglio ancora gratuitamente in giro per la rete soluzioni già preconfeccionate ovviamente noi siamo al primo anno e quindi impareremo questi metodi per risolvere problemi vecchi problemi semplici piccoli e vecchi ma il principio è lo stesso ho un problema da risolvere e trovo da solo gli strumenti per arrivare in fondo per fare questo quindi bisogna imparare a costruire degli algoritmi attraverso un linguaggio di programmazione in quello che si chiama un ambiente di programmazione quindi l'utilizzo molti tutti voi avete una assoluta familiarità con i computer di tutti i tipi dal portatile ai computer fissi dal cellulare a quelli che non sapete che sono computer ma che vi permettono di vivere tranquillamente quando usate un microonde programmato dentro c'è un piccolo calcolatore c'è un piccolo computer che fa quello che spingendo un bottone voi desiderate per poter arrivare a questo bisogna che qualcuno sappia programmarli e se voi volete risolvere problemi nuovi nella vostra futura carriera scientifica dovete imparare a fare anche questo ovviamente quello che noi faremo lo faremo legato all'anno di corso in cui voi vi trovate e quindi facciamo cose semplici per imparare strumenti che poi sono di base per tutto sono tornata su quindi gli obiettivi principali sono quelli di sapere ottenere dei risultati significativi da un insieme possibilmente grande di dati grezzi che in inglese si chiamano raw e bisogna per fare questo imparare a conoscere i principi e gli strumenti di base dei linguaggi di programmazione e degli strumenti su cui questi linguaggi di programmazione girano o rannano come brutalmente si dice che sono i nostri calcolatori quindi noi dobbiamo essere in grado di una volta capito quale sia il percorso formalizzare una soluzione al nostro problema di solito in ambito computeresco la soluzione a un problema si raggiunge attraverso quello che viene chiamato in modo formale algoritmo che suona pomposo in realtà è semplicemente una successione una o una successione di operazioni messe nel modo logico che portano ad un percorso definito e quindi al risultato finale questo algoritmo che può essere concettuale e poi deve essere codificato in un linguaggio di programmazione attraverso nel nostro caso utilizzeremo il linguaggio C e quindi apprendendo la sintassi del linguaggio C questo non è altro che un percorso che voi avete imparato a fare sin dai primissimi passi scolastici quando voi sapete che io faccio sempre esempi estremamente banalizzati quando alle elementari le maestre vi hanno insegnato a fare i pensierini voi dovevate scrivere dovevate fare un pensierino fai il pensierino sulla mamma o sul tuo migliore amico quindi bisognava prima avere il pensiero quindi capire che cosa si vuole dire e questo è l'algoritmo e poi avendo appreso le basi della scrittura e dell'italiano quindi la scrittura attraverso il linguaggio italiano essere in grado di codificarlo in modo che anche altri capiscano in modo corretto quello che voi volete dire questo è esattamente il principio di una soluzione del problema attraverso il linguaggio di programmazione è chiaro che il problema non è scrivere il pensierino sul migliore amico il linguaggio non è l'italiano che peraltro è una lingua difficilissima per chi non ci sia nato e quindi il linguaggio di programmazione in realtà è più facile di quello che voi avete imparato da bambini per comunicare le vostre esigenze a chi vi stava intorno ovviamente anche questo prevede un contesto e questa cosa va contestualizzata e per contestualizzarla che significa utilizzare un calcolatore utilizzare uno strumento bisogna imparare a muoversi all'interno con gli strumenti adeguati all'interno di questo ambiente di programmazione che troverete in laboratorio gli ambienti di programmazione saranno il sistema operativo del sistema di calcolo che utilizzerete che è Linux il linguaggio di programmazione che è EC e l'interfaccia che è quello che si chiama un editor che vi permette di scrivere il vostro linguaggio in modo che il calcolatore possa poi acquisire le informazioni che voi gli date ovviamente tutto questo è necessario per poter utilizzare i principali semplicissimi algoritmi che sono tradizionali in ambito del calcolo e ci sono domande su queste cose e cose che dubito ma insomma fatele liberamente intervenite quindi questo secondo modulo noi che cosa facciamo? impareremo che cos'è un sistema di elaborazione un linguaggio di programmazione di alto livello la rappresentazione dei dati perché anche in cui noi immaginiamo i dati è qualcuno che doveva dire qualcosa? dicevo anche il modo in cui noi immaginiamo le parole e i dati non è necessariamente il modo in cui un sistema di calcolo utilizza le parole e i dati quindi anche questo dovremmo imparare ad adeguarci e impareremo le basi del linguaggio C cioè che cosa si intende per valore tipo di variabile costante variabile puntatori tutte le istruzioni di controllo per fare fare al programma di calcolo che voi dovrete fare quello che desiderate e non quello che vuole eventualmente il calcolatore il calcolatore non vuole nulla è la cosa più stupida e terribilmente obbediente che avrete di fronte pertanto se il programma produce risultati diversi da quelli che voi vi aspettate è perché sta obbedendo a dei comandi mal presentati o sbagliati o diversi da quello che voi immaginavate fossero quindi poi imparerete il principio delle funzioni vettori stringhe gestione dei file esterni tutto questo man mano quindi non facciamo ovviamente soprattutto senza neanche guardarci in faccia come siamo adesso una lungo elenco di regole e di comandi perché sarebbe noioso alla morte anche per me non solo per voi che ascoltate ma cerchiamo di imparare facendo quindi tutti questi costrutti si impareranno un po' alla volta ogni volta ci sarà qualche cosa di nuovo dal punto di vista del linguaggio e applicato a un problema da risolvere ogni volta un pochino più complesso problemi da risolvere che saranno sostanzialmente gli stessi che voi avete applicato durante la prima parte del corso quindi farete voi i programmi per analizzare dal punto di vista statistico i dati che avete acquisito in laboratorio quindi facendo questo un passo alla volta acquisirete spero i principi fondamentali di costruire un progetto e sviluppare degli algoritmi applicandolo ai metodi dell'analisi dei dati poi vedete che se state guardando le slide vedete che c'è qualcosa scritto in italico o slent cioè rielaborazione di relazione del laboratorio di dinamica e metodi di simulazione numerica il commento in grigio è dovuto alla situazione complessa in cui ci troviamo io spero di arrivare a fare anche questa parte del programma però potremmo essere potremmo essere un po' in difficoltà comunque sostanzialmente tutti i metodi dell'analisi statistica conto di farli potrete voi decidere se farlo man mano quello di rielaborare le relazioni del laboratorio di dinamica come verifica di volta in volta di quello che avete fatto per quello che riguarda i metodi di simulazione numerica non sono sicurissima di riuscire ad avere il tempo a meno che il sistema di esercitazione a distanza non funzioni molto bene in quel caso andiamo avanti potremmo introdurre in caso manca tempo anche proprio l'ABC le basi embrionali di di una branca infinita dell'informatica e del calcolo numerico che sono tutti i sistemi di simulazioni partendo da numeri pseudo casuali ma questo vedremo di farlo man mano perché il laboratorio è importante le esercitazioni di laboratorio e soprattutto la manualità nell'uso degli strumenti di calcolo sono una parte fondamentale del corso questo è vero anche per la prima parte del laboratorio se io vi racconto alla lavagna che facendo cadere la pallina passa attraverso i traguardi voi prendete i tempi e tutto viene magnificamente avete se siete dirigenti avete ascoltato con cura avete appreso una metodologia ma non avete potuto toccare con mano le difficoltà anche banali che possono incontrarsi non compiere operazioni così semplici lo stesso vale per la programmazione senza sbattere la testa direttamente su problemi che poi nel 95% dei casi anzi molto di più nel 99% dei casi risultano essere problemi banalissimi voi non imparate a fare della programmazione uno strumento di ricerca perché adesso saranno problemi banalissimi man mano che la vostra programmazione diventerà più evoluta avrete bisogno di sapere gestire tutti i possibili problemi quindi sulla carta i programmi come si suol dire girano sempre un programma scritto sulla carta se voi pensate che segue lo sviluppo logico vi suona bene se però in quel programma ci sono un sacco di errori di logica di sintassi di proprio anche di battitura non ve ne accorgete finché questo non viene messo in esecuzione su un calcolatore e a quel punto si fa il passo tra vedere qualcosa e fare qualcosa quindi il mio suggerimento è di seguire assiduamente le lezioni e di fare assiduamente quasi poco e di fare sempre le esercitazioni perché il laboratorio è il momento di autovalutazione quando venite alla lavagna all'esame il grosso è fatto se l'avete imparato questo è solo il momento di dimostrarlo e se non l'avete mai imparato prima la cosa purtroppo viene fuori alla distanza quindi nel momento in cui voi fate le esercitazioni vi accorgete se il programma gira e porta ai risultati che disegnate vi accorgerete di avere imparato le cose che dovete imparare quindi la cosa importante è che voi facciate queste esercitazioni perché anche se da remoto nel caso specifico le aggiunte in grigio sono quelle diciamo le personalizzazioni dovute a quest'anno particolare le esercitazioni sono assistite cioè se voi avete bisogno di qualche cosa trovate durante l'orale delle lezioni anche fuori naturalmente chiedendo via mail come sempre di parlarci però durante l'orale delle lezioni voi trovate delle persone tecnicamente me e Luca Menzoni che vi possono dare una mano a risolvere i punti gli errori i problemi che bloccano il buon funzionamento dei vostri programmi oppure i dubbi o la mancanza di chiarezza del che cosa va fatto e cosa del genere quindi anche se saremo costretti a fare sempre io spero proprio di no ma saremo costretti di fare tutto il corso in modalità remota cercheremo di fare tutte le esercitazioni e di farlo in maniera assistita per questo che vi dicevo che sto pensando quali sia il sistema realizzabile più efficace per essere presenti mentre fate le esercitazioni chiaro che questo è molto diverso dagli anni passati gli anni passati tipicamente voi gli studenti a gruppi come durante il primo semestre stavate seduti in un'aula davanti a un computer e noi in aula rispondevamo alle mani avanzate quindi qualcuno dava la mano ho bisogno non riesco ad andare avanti si veniva lì e si dava una mano esattamente come in laboratorio con la differenza che in realtà ci si ferma più rapidamente di fronte a un programma che si che che cresce o che non si riesce a portare a termine che non davanti all'esecuzione di un'esperienza di laboratorio poi l'esperienza di laboratorio potreste trovare problemi nei girati punto mentre nel programma se non arrivate in fondo vi bloccate proprio quindi cercare di darvi assistenza sarà la nostra maggiore il nostro maggiore goal di quest'anno cercando di farlo anche a remoto la differenza qual è? che io immagino che ognuno di voi sia in questo momento seduto a casa sua da solo quindi non sarete a gruppi e questo da un certo punto di vista può diventare un piccolo handicap perché come quando si studia in due come si suol dire uno tira l'altro nel momento di difficoltà lo stesso vale in questo tipo di laboratorio se uno del gruppo ha una difficoltà ma l'altra persona un altro del gruppo ha un'idea per risolverlo si discute e si procede invece da soli dovrete risolvere i vostri problemi il più efficientemente ed efficacemente possibile voi potete benissimo decidere per esempio di fare le esercitazioni fuori orario anche sentendovi con Skype facendo quello che volete a gruppetti in tal caso se pensate di lavorare a gruppetti potremmo anche formalizzare il fatto che abbiate dei gruppi che come tutti gli anni lavorano insieme per arrivare al risultato finale questo me lo potrete dire nell'arco dei prossimi giorni ci sono domande? Continuo? se nessuno interviene io procedo non è che mi state scrivendo no allora logistica del laboratorio come vi dicevo il formato di quest'anno la logistica del laboratorio per il 2020 è questo la parte iniziale molto breve di lezioni da remoto l'utilizzo in in laboratorio che in questo caso è un laboratorio virtuale di un computer PC su cui gira Linux possibilmente o quello che volete purché siate in grado di collegarvi al server dedicato server centrale che sta qui in dipartimento e che è dedicato al corso attraverso un sistema operativo Unix che è utilizzato un sistema operativo Linux sostanzialmente questo quindi che cosa significa poi faremo un brevissimo accenno su che cos'è una rete di calcolatori così ve lo rispiego però sostanzialmente voi avrete questo succede non solo quest'anno tutti gli anni voi sareste stati nella stanza con i computer grande quella che si chiama Info 1 al blocco F dove ci sono tanti computer che sono a disposizione sia vostra che di altre persone di altri corsi di laurea ovviamente questo fa sì che quello che voi lasciate su quei computer sia assolutamente privo di backup di sicurezza di affidabilità di sopravvivenza e quindi da sempre quei computer vengono utilizzati come interfacce per collegarsi ad un altro computer che invece è nella quella cosiddetta sala macchine del quindi la sala computer del nostro dipartimento dove la macchina è accesa 24 ore al giorno 6 giorni su 7 a meno di incidenti che se la trovate spenta fateci sapere andiamo a vedere cosa è successo e su questo calcolatore ci saranno dei account dedicati a ognuno di voi su cui lavorare da remoto questa macchina è attaccata a un gruppo di continuità quindi se anche manca la luce rimane accesa e i rischi di perdere le informazioni sono molto inferiori viene backuppata di tanto in tanto e quindi voi lavorerete insieme ognuno con i propri credenziali su una macchina dedicata a questo corso che abbiamo in sala macchina quindi quello che vi serve è un computer che vi permetta di collegarvi a questa macchina perché non una qualsiasi cosa perché non un cellulare non un tablet base perché in realtà noi abbiamo bisogno che su questa sul computer di fronte al quale voi siete fisicamente seduti e non solo virtualmente possa aprirsi una o più finestre su cui voi potete editare il vostro programma mandarlo in esecuzione vedere gli eventuali messaggi di errore eccetera e questo implica aprire delle finestre remote dalla macchina che è qua in dipartimento sulle vostre sui vostri calcolatori che sono a casa insieme a voi è chiaro? mi sono spiegata? su questo quando la cosa diventerà in fase di realizzazione ovviamente cercheremo di darvi anche da remoto il massimo del supporto quali sono i testi suggeriti per questa seconda parte del corso? in primis un buon manuale di linguaggio C che cos'è un buon manuale di linguaggio C? non è necessariamente quello che piace a me è un manuale in cui voi vi sentiate a vostro agio a cercare le cose un manuale di C è l'equivalente nello stesso volume di una grammatica italiana di un vocabolario prima ho fatto l'esempio del pensierino o del tema per poter scrivere un tema correttamente bisogna imparare la grammatica la sintassi la grammatica e l'analisi logica e conoscere il significato delle parole lo stesso vale per scrivere un programma in un linguaggio di programmazione quindi è necessario avere un manuale che ci permetta non di leggerlo dalla prima all'ultima pagina nessuno si sognerebbe di leggere un vocabolario dalla prima all'ultima pagina anche se alle media aveva un compagno che lo faceva ma mi è sembrato ottimissimo ma quello che voi dovete fare è poterlo consultare quando avete bisogno di fare qualcosa e avete necessità di controllare quale sia la sintassi corretta quale siano le forme verbali chiamiamo così quindi quali siano i comandi giusti da utilizzare nel linguaggio che state utilizzando quindi quello che deve essere deve essere non infinitamente verboso perché altrimenti vi perdete in centinaia e centinaia di pagine per trovare quello che cercate deve avere un indice analitico è vero che se lo utilizzate in formato elettronico potete sempre fare un search sul pdf però bisogna avere idea di che cosa si cerca nell'indice analitico tipicamente si leggono le proposte e si va a vedere se quello che si trova corrisponde a quanto si stesse cercando quindi ci sono un certo numero di libri di C in giro per il mondo ce n'è uno base che si chiama il linguaggio C anzi di Kenningham e Ricci che è quello che poi utilizzano tutti quelli che programmano in C anche se adesso ci sta evolvendo verso il G++ come consultazione anche da grandi in realtà ce ne sono tanti altri un po' più semplici questo non è semplice è un linguaggio che parte è un manuale che parte dal presupposto che qualcuno sappia già qualse è un costrutto di programmazione e lo voglia scrivere in C questo somiglia un po' a un vocabolario di uno che sa già scrivere ma vuole scrivere in un'altra lingua quindi come consultazione va a dar bene se trovate qualcosa che vi piaccia più semplice mi va benissimo è un po' come scegliere il vocabolario non hai capito perché a scuola dicessi devi usare quel vocabolario se il vocabolario è buono è buono sempre qualsiasi sia il suo editore o il suo autore in ultimo c'è sul cosiddetto mini sito ma anche sulla mia pagina web che è bruttissima deliberatamente ci sono un po' di documenti e in particolare c'è un link a una cosa che non può in nessun modo sostituire un manuale di programmazione ma è un link ad una pagina di un collega o di una collega di un'altra università che ha messo online proprio delle pillole di DC sono molto semplici per cominciare se avete un manuale di programmazione un po' complicato per cominciare quello può essere l'equivalente di un bignami sempre che esistano ancora cioè un rassunto iper semplificato ma che può dare un'immagine generale domande? non sapete come mi manca guardarvi in faccia allora dimmi non avendo Linux sul computer come si può ovviare? ecco non avendo Linux sul computer è il secondo punto dell'ultima parte che sto scrivendo che vedete lì che questo lo dicevo anche gli altri anni ovviamente in laboratorio il sistema Linux su computer dell'info 1 c'è che lo mettiamo noi ma visto che anche gli anni passati dicevo che in laboratorio non basta bisogna lavorare a casa d'altra parte per fisica generale fate gli esercizi e studiate la teoria lo stesso vale per chimica per geometria qui il lavoro a casa è sostanzialmente quello di fare i programmi quindi quello che vi serve è un computer con un sistema Linux che può essere anche virtuale ovvero installato come virtual machine come macchina virtuale e questo si può installare su Windows il di solito sui Macintosh non è necessario è il contrario di solito cioè si mette un sistema Windows virtuale sui Mac perché sulla sotto il sistema a finestre che voi vedete del sistema Mac OS che sta per Mac Operating System c'è un sistema Unix quindi la base del sistema operativo del Mac è già compatibile con quello che serve però questo è il motivo per cui molti dei fisici che voi vedete hanno un Mac però visto che sono estremamente costosi e che voi siete giovani e che per noi questo è uno strumento di lavoro permanente non solo per fare lezione potete benissimo prendere un qualsiasi sistema quindi un qualsiasi computer o utilizzare quello che avete in casa che abbia per esempio Windows eccetera e installarci sopra una macchina virtuale Linux la macchina virtuale Linux ha il vantaggio che se per caso ad un certo punto succede qualcosa si reinstalla su tempi abbastanza veloci e si ricomincia dal capo quindi quando sto vedendo se riusciamo a procurarvi un tutorial per l'installazione di una macchina virtuale Linux su Windows anche se ripeto il web è pieno oggetto di queste di queste di questi sistemi di virtualizzazione Linux è un sistema gratuito quindi si trovano dappertutto altre domande vi dicevo di lavorare da casa quindi voi potete fare due cose che non si escludono mutuamente mettere la macchina virtuale sul vostro calcolatore e sì quindi per il mac basta installare un'applicazione no non c'è nemmeno bisogno di installare l'applicazione aprite quella cosa che probabilmente chi ha il mac non ha mai usato che è una finestrina nera o bianca che si chiama terminal e da lì ci si ritrova nelle condizioni in cui sareste su quello che io vi chiedo di utilizzare con la macchina virtuale Linux quindi non c'è bisogno di mettere un'applicazione il problema ogni tanto mi viene da sorridere il problema è della vostra generazione non questo anno ma diciamo degli ultimi anni è che avete una confidenza assoluta con calcolatori anche molto sofisticati ma non avete la confidenza con quello che sta sotto i prodotti che siete abituati a vedere perché le applicazioni non sono altro che la visione superficiale nel senso che sta a galla sotto c'è un sacco di altra roba come la punta dell'iceberg di sistemi di programmi molto complessi che vi permettono di utilizzare in maniera semplice il vostro sistema però in maniera semplice è finalizzata l'uso di quell'applicazione se si sfronte tutto questo dalle applicazioni dalle finestrine eleganti dalle cose che uso io non le sto criticando sono molto cose ma che sono diciamo fatte da qualcuno che sa programmare molto bene per chi non sa programmare in realtà se si toglie tutto questo esiste sotto questi sistemi di calcolo il mondo dell'ambiente di programmazione che è molto meno user friendly spesso non ha belle finestrine colorate però vi permette di fare qualsiasi cosa o quasi voi desideriate e quindi per questo la differenza tra un'applicazione e un ambiente di sviluppo è proprio questo l'ambiente di sviluppo di programmazione è più rube e è più efficace insomma è come andare in montagna in elicottero o andarci a piedi chiaro che in elicottero si fa meno fatica e si arriva veloci però l'elicottero non può appoggiarsi in qualsiasi gola in qualsiasi bosco e quindi insomma ha delle limitazioni mentre andando a piedi si fatica però si arriva dappertutto spero che vi piaccia andare in montagna perché altrimenti vi ho tolto il piacere di proseguire su questo percorso tornando a noi avete sempre accesso al calcolatore come vi dicevo prima il calcolatore di laboratorio quello che è qua è accessibile sempre anche fuori dalla rara di lavoro quindi se voi visto che non potete uscire o quasi i suoi ristoranti sono chiusi ma sono chiusi se non sapete cosa fare dopo cena vado a fare vado a vedere se il programma che ho scritto sul mio calcolatore funziona come deve sul calcolatore di riferimento che è quello che abbiamo qua da noi quindi voi potete editarlo lì e poi provarlo trasferirlo sulla nostra macchina oppure lavorare direttamente in remoto sulla nostra macchina queste sono le due possibilità di solito quando siete in aula io faccio lavorare direttamente sulla nostra macchina però è caro che questo dipende dalla rete siamo sulla stessa rete e da casa potrebbe essere un po' più solo come vi dicevo il supporto didattico viene dato da Luca Minzoni se avete bisogno di scriverci ci scrivete sulla sui nostri diritti di posta elettronica come sempre vi darò se come penso utilizzeremo anche Skype per rispondere in modo da farlo in parallelo perché altrimenti qui se i due gruppi vogliono avere informazioni o parlo io o parla Minzoni e invece nel senso che possiamo anche parlare tutti ma poi fa confusione e non ci si sente invece pensavamo di lasciare acceso questo e di avere i nostri computer personali con Skype acceso in modo che ci possano fare i dialoghi come quando si viene alla cattedra a chiedere qualcosa sostanzialmente in questo caso vi daremo anche i nostri account Skype ci sono domande? procedo? vado avanti grazie per un sì sì ogni tanto valutazione questo è un reminder con modificazioni dovute alla circostanza ovviamente è obbligatorio consegnare tutte le esercitazioni funzionanti cosa significa? significa che vi daremo vi darò la procedura per memorizzare il programma che voi avete deciso che è finito che funziona l'equivalente della relazione perché dovrà essere anche commentato dentro una parte della vostra memoria che sta sul computer qua in una specie di casellina in cui mettete i vostri programmi funzionanti quando avrete consegnato tutte le esercitazioni funzionanti come avete fatto o avreste dovuto fare per quelle di laboratorio potete fare l'esame finale l'esame consta o consterebbe di una prova scritta di avvisione molto sintetica che viene fatta nella stessa data della prova pratica di laboratorio vedete che è scritta in grigio pallido e questo non perché mi sia scappato il colore sull'editor ma perché questa parte nella ipotesi che non voglio immaginare ma devo tener conto possa essere vera in cui dovessimo eliminare gli scritti ovviamente non si potrà fare a questo punto vale nota bene in fondo se la situazione inusuale ci dovesse impedire di fare la prova pratica di esame e quindi anche lo scrittino per quest'anno faranno fede le esegitazioni consegnate questo discorso vale per tutto il corso non solo per la parte del secondo semestre quindi come avete visto quelli che si erano iscritti alle prove pratiche non hanno potuto farla nel preappello perché non si poteva fare gli esami in presenza se la cosa cambierà ovviamente ci saranno gli appelli delle prove pratiche e del test di la prova scritta di ammissione di programmazione normalmente nel caso questo ve lo dico adesso perché così vi tenete pronti nel caso questo non fosse possibile dovessimo fare solo esami orali allora utilizzerò per dare una valutazione di quella che sarebbe stata la valutazione della prova pratica le esercitazioni consegnate durante l'anno a chi non ha ancora consegnate chiedo quindi di farle di farle bene di consegnarle farle bene ovviamente non che la cosa possa trasformare in un dramma si possa trasformare in un dramma ma il fatto che c'è una percentuale elevata di persone che hanno consegnato tutto nei tempi è sicuramente una nota di merito per chi lo ha fatto quindi una volta che avremo capito come fare la prova pratica se fare la prova pratica se fare il se fare la prova scritta oppure se dobbiamo andare avanti solo con gli orali comunque ci sarà l'orale finale del corso gli appelli di solito come sempre sono in giugno luglio settembre e poi un ultima sessione di quest'anno il prossimo gennaio febbraio diciamo la sessione di recupero domande su questo vado avanti lascio un secondo di tempo per pensare se avete domande sulla logistica che è il grosso di quello che vi ho detto cioè che è tutto quello che vi ho detto finora e poi cominciamo perfetto allora cominciamo a parlare di calcolatori voi sapete che a me piace parlare in modo un po' arcaico qualche volta di solito non lo faccio ma lo faccio con voi il quindi calcolatore che cos'è è qualsiasi cosa voi chiamiate computer sistema di calcolo pc pc in realtà è la versione riduttiva di calcolatore perché sta per personal computer quando si parla per esempio dei computer di google o semplicemente i computer che si usano nei nostri centri di calcolo sia in Italia che al CERN o negli Stati Uniti non sono più pc sono sistemi di calcolo complessi composti da un certo numero di computer o calcolatori partiamo proprio dalla base 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 che cos'è un calcolatore che si chiamano anche calcolatori digitali calcolatori digitali sono strumenti che permettono di gestire informazioni codificate utilizzando dei numeri tutte le informazioni sono codificate utilizzando dei numeri che si chiamano digits da lì i termini digitali anche quando voi adesso siete ovviamente abituati a pensare alle macchine fotografiche sono tutte o quasi solamente qualche romantico raffinato usa ancora le pellicole analogiche per fare una fotografia di solito tutte le macchine sono digitali sono digitali quelle nei nostri cellulari sono è digitale il segnale della televisione che ci arriva in casa tutti i giorni significa semplicemente che il segnale di informazione che viene trasferita o gestita è un'informazione codificata utilizzando dei numeri nel caso specifico questi numeri sono due quindi sono e per questo che si chiamano si dice che si utilizza un sistema binario i numeri con cui si codifica l'informazione di un calcolatore sono numeri binari che si chiamano bit che sta per binary è la crasi di binary digit come li possiamo immaginare? possiamo immaginare che siano delle degli insiemi di uni e zeri che sono quelli che si vedono nella rappresentazione standard di tutti i computer anche vecchia maniera questi in realtà possono corrispondere anche a un interruttore acceso spento cioè l'esistenza o meno di un segnale si può considerare che abbiano si può considerare un sistema binario un sistema costituito da una tensione sopra o sotto una soglia di un certo valore questo succede per esempio negli standard di comunicazione di laboratorio possiamo considerare un condensatore carico o un condensatore carico la magnetizzazione sopra una certa soglia di un oggetto magnetico quindi tutto quello che può essere visto come diviso in due parti un segnale che possa essere visto come c'è o non c'è esiste o non esiste 0 o 1 è un bit qualcuno di voi potrebbe dire ma io ho sentito parlare anche di nuovi di nuovi computer che non si basano solo sui bit stiamo parlando dei giusto per dirvi che esistono in realtà non li usiamo non li usate esistono adesso esiste una forma di linea di ricerca sempre più realizzabile di calcolatori quantistici un calcolatore quantistico non lavora più o non lavorerà più utilizzando i bit ma utilizzando degli stati di sovrapposti che possono tra di loro comunicare di segnali binari in questo caso però il fatto che considerarli diciamo a pacchetti il bit non si chiama più bit si chiama qbit non c'è scritto niente di questo perché non fa parte del programma sto parlando mi sto dando solo un po' di informazioni accessorie il qbit ha delle caratteristiche però quantistiche e quindi si entra nell'ambito del probabilistico e la gestione dei dei bit di questo dei qbit è decisamente ancora a livello sperimentale e quindi noi per il momento ancora per un bel po' per tutto quello che riguarda il lavoro normale andremo avanti con i calcolatori binari poi se l'industria e soprattutto la ricerca nell'ambito dei calcolatori quantistici darà risultati veloci allora avrete il piacere di poter vedere nascere ed utilizzare calcolatori che battano che si basino su principi diversi tornando alla vc i nostri bit sono solo due è assai complicato rappresentare tutto il mondo semplicemente con uno zero con uno uno se non accorpiamo in modo da separare il significato di questi zero e uno per trasformare i cosiddetti le nostre informazioni che sono codificate e quindi il primo accorpamento si chiama byte ed è una sequenza di 8 bit anche 8 bit sono pochi vedrete la premutazione di 8 bit non ci dà numeri elevatissimi e quindi si è passati all'utilizzo di quelle che si chiamano parole o word ovviamente di un calcolatore che sono gruppi di byte tipicamente sono potenze di due quasi sempre sono potenze di due in passato ci sono stati alcuni calcolatori che avevano parole che non erano potenze di due ma è perché peciavano due parole per farle sembrare più grandi vicine quindi si mangiavano un po' di bit per collegare tra di loro le due parole immaginate di avere due pezzi di carta da 32 bit e volete farne un pezzo da 32 cm volete farne uno più grande quello che potete fare è incollare gli ultimi due centimetri dell'uno gli ultimi due centimetri dell'altro per farli stare insieme e a questo punto quello che voi ottenete è una striscia di carta da 60 cm o da 60 quadretti insomma questo è quello che è successo però stiamo parlando degli anni 80 tipicamente le parole sono raggruppamenti di byte che ci permettono di mettere dentro la stessa stringa dentro lo stesso insieme numeri più grandi informazioni più grandi che permettono al calcolatore di andare più veloce perché perché la parola è ha un significato non semplicemente di accorpamento perché uno può dire le accorpo quanti mi servono la parola è il numero di bit che il processore quindi che l'elettronica che compie le operazioni è in grado di gestire in un unico passaggio in un'unica operazione quindi quando voi sentite parlare di calcolatori a 64 bit o a 32 o a 128 in realtà state avendo a che fare con processori quindi con calcolatori all'interno del quale c'è un processore che è in grado di compiere un'operazione su un pacchetto di bit di 32 64 128 o quello che volete bit alla volta quindi si chiama parola perché è caratteristico del tipo di processore che voi state utilizzando ed è il fatto che siano potenze di 2 vi potrà essere abbastanza chiaro che il fatto che avete a che fare con delle caselline quindi con dei numeretti che possono avere solamente due due possibili valori e quindi la potenza di 2 torna torna quali sono i compiti di un calcolatore digitale quello di eseguire operazioni logiche oppure eseguire operazioni numeriche oppure cercare di fare un'operazione logica all'interno della quale vengono fatte delle operazioni numeriche come vi dicevo un attimo fa insomma un po' di minuti fa la caratteristica dei calcolatori è che sono molto veloci tanto più veloci quanto sono più nuovi ma sono e sono infinitamente obbedienti non sono tuttavia particolarmente intelligenti quando si parla di intelligenza artificiale ricordatevi che si parla sempre di programmi che si comportano in modo da far diventare intelligente il calcolatore e l'intelligenza quindi non sta nel calcolatore ma sta nel programmatore che ha programmato in modo furbo il calcolatore in modo che possa anche apprendere dall'esecuzione ma è tutto un artificio dell'intelligenza che viene messa dall'umano nella programmazione e che il calcolatore che è particolarmente veloce ubbidiente e non entra nel merito di quello che sta facendo trasforma in apparente intelligenza cioè ancora voi siete molto giovani non so se avete mai visto 2001 di seano lo spazio però ancora per fortuna al calcolatore Hall che decide di fare quello che vuole e fare fuori gli umani nella stazione spaziale ancora non siamo arrivati anche se abbiamo qualche cosa in casa che assomiglia tipo Alexa e cose del genere allora cosa succede ovvio perché vi ho detto che sono veloci ma non intelligenti in senso stretto perché in realtà sono in grado di fare un numero tutto sommato piuttosto limitato di operazioni elementari che possono diventare complesse nel momento in cui questa operazione complessa viene spezzata in operazioni più semplici quindi il calcolatore è molto veloce conviene dividere una singola operazione complessa in molte operazioni elementari perché comunque vengono eseguite molto velocemente e il tempo che passa è trascurabile rispetto all'effetto di semplificazione di avere il programma che fa queste operazioni quindi il processore che compie queste operazioni semplici adesso lì vedete un disegno di un computer di media cioè personal computer che usiamo come esempio di che cosa può essere il nostro la struttura hardware elementare di un calcolatore su voi vedete c'è un cerchio rosso questo che descrive in realtà circoscrive l'unica cosa che è veramente utile e necessaria cioè utile è tutto ma che è veramente strettamente necessaria in un nella struttura hardware di un computer tutto il resto sono periferiche e periferica vuol dire che si può anche se uno dice tutto sommato di una tastiera potrei averne bisogno ma in realtà ci sono processori ci sono computer che funzionano bene e fanno il loro mestiere anche senza avere una tastiera o un video o una stampante attaccati dunque sostanzialmente che cosa il cuore dentro questa scatola che cosa abbiamo abbiamo la parte fondamentale che uno può immaginare come il cuore o il cervello del nostro se vuole umanizzare del nostro elaboratore che si chiama CPU unità di elaborazione centrale central al processo di unit questa comunica questa è quella che fa il lavoro vero quindi che esegue tutte le istruzioni dentro questa CPU devono passare tutte le nostre parole per essere elaborate questa comunica con il resto del sistema attraverso queste cose che sembrano due righe in realtà sono connessioni fisiche semplicamente sono piste di rame di conduttore che hanno un'importante funzione quella di far passare i bit in parallelo quindi se un processore per esempio ha 64 bit il bus dovrà tener conto che per la sola parte della parola poi ci sono un paio di connessioni di controllo dovranno esserci 64 conduttori che girano in parallelo altrimenti la lavorazione diventa infinitamente lenta attraverso questo bus di sistema il processore l'unità di lavorazione centrale la CPU comunica con la memoria centrale che è la memoria di lavoro quindi quella su cui vengono memorizzati tutti i dati i programmi e anche i programmi che fanno parte del sistema operativo che poi devono essere passati attraverso l'unità di lavorazione attraverso la CPU anche questo è un elemento molto importante quindi bus CPU e memoria sono lo zoccolo duro il nucleo senza il quale è molto difficile che un computer possa lavorare esistono poi tutte le altre cose che sono cose con cui noi abbiamo abitualmente confidenza che sono le cosiddette periferiche quindi sono periferiche i dischi di qualsiasi formato di qualsiasi formato siano quindi la cosiddetta memoria di massa o storage le stampanti il terminale la tastiera la telecamera il microfono e quant'altro quindi tutto tutto quello che non è CPU e memoria centrale è collegato tramite il bus a questo zoccolo duro e permette poi di allargare gli orizzonti di funzionamento del nostro computer questo che voi vedete rappresentato è appunto un vigine quello che si chiama multi-purpose computer quindi un computer con cui puoi fare tante cose nel momento in cui invece noi avessimo solo un in età di elaborazione e la sua memoria collegate e poi delle periferiche di comunicazione potremmo trovarci di fronte a quelli che si chiamano embedded computer cioè computer che stanno dentro che sono nascosti dentro qualche cos'altro e sono quelli che noi siamo circondati in questo momento da computer embedded e sono quelli che abbiamo dentro la lavatrice la lavastoviglie il microonde il frigorifero se avete dei frigoriferi quelli furbi nuovi ovviamente i cellulari cellulari hanno anche delle periferiche in realtà perché una periferica può essere integrata nello stesso case e via così quindi un computer di base può vivere solo di un'età di elaborazione e memoria centrale questo è vero anche per computer che fanno calcolo scientifico se voi considerate invece che un personal computer un enorme stantone pieno di sistemi di calcolo questi sistemi di calcolo hanno bisogno di tanta potenza di calcolo tanta memoria nessuno usa queste macchine direttamente con un'interfaccia con grafica con un video eccetera e quindi loro sono tra di loro uniti tra un attimo vedremo anche come loro sono tra di loro uniti per fornire un servizio che è quello del calcolo e possono vivere e fornire un servizio molto efficace anche senza avere un monitor una tastiera e tutto il resto mentre questo che è un computer completo ha tutte le periferiche manca solo la stampante sostanzialmente perché ha telecamere microfoni ovviamente altoparlanti video interfaccia grafica e tutto il resto quindi la struttura hardware elementare di un computer non dipende tanto dalle sue dimensioni o dal suo spezzettamento sul tavolo quanto dalle componenti logiche hardware che lo compongono ci sono domande su questo? vado avanti qualche volta sì qualche volta ho avuto occasione di portare in aula anche un computer aperto per farvi vedere cosa c'è dentro lì c'è una fotografia che è un pochino piccola ma rappresenta sostanzialmente quella che è la scheda madre di un di un normale di un normale personal computer se voi vedete quelle cose verdi quelle barre verdi sono i connettori per attaccarsi al bus delle periferiche e come vedete sono lunghe e strette perché hanno in realtà tanti piccoli conduttori per arrivare tipicamente questa immagino che sono 64 bit e quindi deve avere dentro tante connessioni quante sono quelle necessarie a portare tutti i dati tenete conto che quando voi prendete per esempio un connettore è un connettore anche questo qua non so se lo vedete questo è un connettore da videoproiettore e ne avrà adesso sto andando che non mi ricordo questo standard quanti ne abbiamo insomma queste sono una decina di connessioni quindi quelle sono sembrano una stupidaggine io sottolineo questa cosa perché in realtà con un bus cattivo se uno cambia fa una cosa che pensa molto furba prende un processore da 128 che adesso sono anche molto costosi da 128 bit e lo adatta ad una scheda madre pensata per un 64 bit in realtà sta sprecando soldi e tempo perché il processore elabora 128 bit alla volta ma il bus non riesce a trasportarne più di mezza parola alla volta e quindi in realtà visto che anche il trasporto dei dati è un'operazione ogni operazione che il processore riuscirà a fare è necessario fare due operazioni di trasporto dei dati e quindi questa sarebbe una soluzione sbagliata quindi riepilogando che cosa fa un'unità di elaborazione esegue tutte le istruzioni di un programma qualsiasi presente nella memoria centrale che viene chiamata anche memoria primaria dopo averlo prelevato dalla memoria di massa o secondaria o da altri dispositivi come dicevo prima ci sono dei processori molto potenti che in realtà che dedicano il grosso del loro tempo a fare calcolo che possono anche non avere dischi direttamente collegati al loro mass ma scaricare dalla rete i programmi e poi dedicare tutta la loro potenza di calcolo o quasi all'elaborazione durante tutto il corso del programma l'esecuzione del programma è sempre l'unità di elaborazione quindi la CPU che legge e scrive i dati dalla memoria centrale perché ovviamente il processore non può tenere in sospeso un risultato parziale ma sempre bisogno di scriverlo da qualche parte che appunto è la memoria e andarlo a ripescare della memoria ci sono molte diverse possibilità manca un accento di calcolatori sul mercato diciamo quelli più più semplici e più tradizionali ma anche un po' più vecchi concettualmente sono i cosiddetti monoprocessore potete immaginare quello della fotografia diciamo sfondo verde in cui quel quadrato che vedete è il nostro questo qua è il nostro processore queste sono lo spazio per le memorie e qui ci si infilano come delle cartoline memorie e bus in realtà questa struttura viene descritta qui non sto questa è solamente per farvi vedere dal punto di vista logico che questo qui è la CPU questa è la memoria RAM che è cosiddetta anche la memoria di lavoro e questo ci sono i dischi fissi gli SSD i DVD la tastiera eccetera questo è lo schema logico e questo invece è la scheda madre da cui poi si attaccano tutte le periferiche qui vi dico anche che esistono i multiprocessori multicore e manicore che significano che l'unità di elaborazione può in realtà invece di avere solo una dei quadratoni che avete visto nella scheda madre può averne più di una adesso qui c'è un disegno un po' assurdo dove il CPU sono tre di solito sono anche queste potenze di due sono due quattro eccetera e queste hanno la caratteristica che sono processori indipendenti che hanno una loro parte piccola di memoria interna e condividono la memoria la memoria centrale quindi su ognuno di questi possono andare in parallelo programmi diversi o diversi parti dello stesso programma programmandolo in modo molto corretto ovviamente può esserci anche una specie di collo di bottiglia nell'accesso alla memoria questo è diciamo lo schema di principio di un'unità di elaborazione multiprocessore ma esiste anche qualcosa che adesso è molto diffuso anche quando voi comprate un calcolatore qualsiasi tipicamente anche a basso costo tipicamente mi viene detto che è un dual core cosa significa? significa che all'interno della singola cpu quindi il quadratone il quadratone vado sempre in diverso posto perché la mia logica sul mio computer è diversa ecco vedete che sto girando intorno al quadrato che è quello il processore il processore in realtà può essere sezionato al proprio interno da queste che si chiamano appunto il core è il nucleo centrale del processore che mantenendo la stessa lo stesso tipo di relazioni con il resto del computer può avere due quattro sei eccetera eccetera unità di calcolo indipendenti non totalmente indipendenti perché condividono in realtà tutto il resto quindi condividono la condividono la memoria condividono il bus eccetera questo ha la caratteristica di questo cioè dei multi core o many core la differenza tra multi core vuol dire multi vuol dire più di uno adesso abitualmente si pensa più di uno due quattro sei otto quando si passa di parecchio questo numero si ritrova di fronte a processori che hanno decine di core allora si parla di many core e sono calcolatori molto costosi pensati per fare calcolo parallelo spinto comunque sostanzialmente la differenza è che mentre su un multiprocessore si possono mandare in parallelo più programmi su un multi core si possono mandare in parallelo parti dello stesso programma quelli che si chiamano 3 ma questo non arriveremo mai a farlo ve lo dico semplicemente perché il mercato ormai dei computer è tale che se vi descrivessi il computer come quello concettualmente che è la macchina di Turing voi penserete che io sono il basta alla fine dell'ottocento in realtà i computer evolvono noi li sediamo però per quello che serve a voi tutto questo è più che sufficiente esiste una terza forma di utilizzo di più calcolatori per lo stesso scopo che è il sistema distribuito in cui vedete qui che ci sono tre ombre grigie all'interno del quale è segnata una cpu col suo bus la sua memoria in realtà queste possono avere poi anche il loro storage addirittura mentre negli altri naturalmente tutte le periferiche sono condivise e in questo caso si chiamano sistemi distribuiti e sono alla base questo ve lo cito perché in realtà sono alla base dei sistemi di calcolo più diffusi per l'analisi dei dati di tutti i grandi esperimenti di fisica delle particelle di fisica anche degli esperimenti tipo quelli che acquisiscono un sacco di dati da satellite e cose del genere quindi e sono l'inizio sono nati in ambito scientifico sono nati per per la fisica ma sono diventati modificati in modo che possano essere di facile utilizzo anche per le persone che non ne sanno niente di computer sono la base del cloud computing dove tanti calcolatori non costosissimi perché chiaramente un calcolatore many core costa moltissimo perché è difficile dal punto di vista della produzione ottenere un sistema veloce con tanti unità di elaborazione specifiche vicine vicine nello stesso circuito integrato questi sono meno costosi ma per gran parte delle esigenze fanno un egregissimo lavoro e permettono di fare una quantità enorme di calcolo in parallelo ovviamente visto che queste che vedete quelle righe nere sono link di comunicazione come quelli che noi usiamo anche se saranno un po' più efficaci ma come quelli che noi usiamo per collegarci da casa a cui per esempio non si lavora in parallelo con pezzi dello stesso programma anche se esistono dei sistemi per farlo non sono efficacissimi in questo caso ma sono efficacissimi nella separazione soprattutto per analizzare grandi quantità di dati perché ognuna di queste macchine separate ma unite analizza un set del campione e poi i risultati vengono messi tutti insieme se voi leggete in questi giorni le cronache del covid 19 forse avete letto che i server di alibaba riescono a analizzare tutte le immagini di non so se sono immagini o se sono i dati biologici del coronavirus in tempi risibili è perché in realtà il sistema di calcolo di alibaba che è la versione cinese di google ha tante macchine in parallelo il cloud computing è fatto in questo modo ci sono domande? vado avanti? io mi rendo conto tra l'altro che siamo in una situazione diversa grazie perché mentre il quando siamo in aula se uno ha sete vuol far merenda prende il aspetta che ci faccia una pausa in realtà voi potreste prendere il tè mentre io parlo quindi io continuo ad andare avanti va bene? perfetto andiamo avanti abbiamo parlato di processori adesso parliamo di gerarchie di memorie abbiamo visto prima accennato al fatto che ci sono allora metto sul caffè peccato di non poterlo prendere allora dicevo le gerarchie di memorie sono vi faccio notare che anche nel disegno di prima vediamo se torno in su o sbaglio ecco torno in su qui vedete che c'è scritto cpu registri cache cpu mem perché questa è più schematizzata la cpu qui ha anche le sue memorie quindi la differenza è che il singolo processore ha bisogno per essere efficace e veloce di una parte di memoria molto vicino a se stessa parlo proprio di vicinanza fisica cioè con connessioni molto corte che è quella che si chiama la memoria cache il primo livello il livello zero della memoria cache di solito sono dentro il cippone della cpu e poi se ne possono avere di esterni ma sempre ad accesso molto veloce e fanno parte della cpu è il posto dove viene memorizzata la parte di informazioni che sono per essere sono state immediatamente o stanno per essere messe in esecuzione sul processore poi il secondo livello di gerarchia è quello della memoria centrale che è quello che dicevo che è dove gira il sistema dove voi tenete contemporaneamente il sistema operativo i programmi che avete sul desktop e tutte queste cose e che è esterna alla cpu connessa alla cpu tramite il bus e quindi ha bisogno di un po' più di tempo l'informazione per essere messa in diretta comunicazione con la cpu nel senso del tempo fisico che i bit passino che gli elettroni passino sulla pista di rame e poi c'è la memoria di massa che sono i dischi esterni i dvd le pennette eccetera tipicamente ci sono queste c'è questa piramide che è una piramide sia di importanza sia di dimensioni le quali sono inversamente proporzionali al prezzo quindi la memoria cache è molto vicina interna o esterna al processore è molto vicina al processore è tipicamente piccola e ordine megabyte e costa molto la memoria di centrale è più grande un po' più lenta meno costosa della cache e lì dipende da quanto da quanto è buono o meglio quanto è bello grasso il vostro calcolatore e qui si parla di ordine di giga gigabyte e poi c'è la memoria di massa che sono i nostri dischi le nostre unità esterne che ormai si declinano in ordine di grandezza di terabyte per quello che riguarda anche un singolo computer da tavolo o portatile perché vi ho detto questo? perché io sto raccontandovi queste cose? perché in realtà quando voi lavorerete sui vostri programmi anche se poi nel momento del panico del programma che non gira oddio come si fa la tal cosa tipicamente perdete un po' della lucidità necessaria a ricordarvi che cosa state facendo davvero perché non la vedete questa roba in realtà voi dovete sempre pensare che i vostri dati sono memorizzati i vostri programmi sono memorizzati sulla memoria di massa quando il calcolatore è spento nessuno li perde quando il calcolatore si accende le informazioni essenziali cioè il sistema operativo i programmi che servono per gestire l'interfaccia con l'utente vengono passati dalla memoria di massa alla memoria centrale e quando si chiede al processore di fare qualcosa il processore sposta parte dei dati dalla memoria centrale nella parte più vicina la memoria cache per poter poi velocemente utilizzarli senza aspettare che nel frattempo arrivino quindi in pratica prende un pacchetto di dati dalla memoria centrale l'appoggia alla memoria cache in modo da avere un buffer sufficientemente grande proporzionale alla velocità con cui lavora per poter non fermarsi in attesa di essere alimentato con i dati che voi gli portate è chiaro che la CPU gestisce queste informazioni per ognuno dei programmi che ci sono sopra che quindi sono in esecuzione sul vostro calcolatore se state lavorando con altri anche altri e quindi la CPU dovrà anche quando voi ci lavorate dividere le proprie attenzioni tra un programma e l'altro visto che il sistema operativo che gestisce i vostri programmi è anche quello che gestisce il calcolatore chiaramente ci saranno delle priorità e i vostri programmi saranno mandati avanti o tenuti temporaneamente in attesa a seconda del del giudizio saggio del CPU che sa che deve prima dare priorità a chi fa vivere il computer e poi ai programmi che ci girano sopra comunque quando voi lavorate cercate di immaginarvi il vostro programma memorizzato sul disco poi lo passo sulla memoria centrale poi quando vai in esecuzione un pezzetto va vicino alla CPU che così può lavorare abbiamo parlato di hardware però in questo momento io parlando di hardware vi ho anche già parlato dei programmi che girano e che hanno bisogno di essere memorizzati e quindi ho implicitamente introdotto il concetto di software che cos'è l'hardware l'hardware ovviamente è la parte dura la parte che possiamo toccare del nostro calcolatore anche la parte dentro le scatole comunque è tutta roba tangibile il software è la parte intangibile senza la quale però l'hardware non serve a niente ovviamente senza l'hardware non avreste niente su cui fare girare il software allora il software è costituito da cose molto semplici apparentemente è l'insieme delle istruzioni e dei dati che vengono trattati da computer punto ovviamente le istruzioni e i dati poi possono diversificarsi le istruzioni possono essere viste da due diciamo da due grossolanamente diversi livelli l'istruzione a livello di macchina che sono un insieme limitato di funzioni specifiche della CPU prima quando vi dicevo che la CPU è obbediente passa a fare cose semplici le fa molto velocemente esattamente questo quindi l'unità di elaborazione centrale si limita a conoscere un insieme molto tutto sommato abbastanza limitato di operazioni è capace di leggere byte da una locazione di memoria quindi sposta legge e sposta un byte può sommare per esempio tra di loro il contenuto di due registri i registri sono le memorie vicine al processore e oppure di eseguire un certo numero di istruzioni a partire da una certa locazione che chiamiamo M quindi queste sono sposta somma e tutte le operazioni che riesci a fare partendo dal concetto di somma oppure fai una certa operazione a partire da lì in poi se noi dovessimo come facevano quelli veramente bravi degli anni 50 istruire i nostri calcolatori partendo da queste istruzioni la nostra vita sarebbe estremamente difficile perché intanto perché bisognerebbe mettersi a pensare come funziona un processore quindi non sommo A più B ma mi sposto nella locazione dove è A ma dove è A vado a cercarla perché non è che il calcolatore sa che quello si chiama A lo sposto lo sommo lo risposto sarebbe una vita infame oltretutto visto che sono funzioni specifiche delle CPU al cambio del processore il nostro programma non funzionerebbe più e quindi bisognerebbe fare tutto è per questo che dopo la cosa essenziale di insegnare ad un processore che è un processo molto vicino all'elettronica un processore di fare delle istruzioni a livello di macchine in realtà c'è stato uno sviluppo enorme che ha dato la possibilità a un numero sempre crescente di utenti di dare istruzioni ai calcolatori grazie a quelle che si chiamano le istruzioni di livello alto di alto livello che sono quindi istruzioni funzioni che vengono tradotte funzioni che sono date secondo la logica con cui un essere umano pensa e vengono poi tradotte sempre tramite qualcuno che glielo sa far fare in una sequenza di istruzioni nel linguaggio macchina che quindi la macchina è in grado di compiere quindi noi diamo istruzioni che seguono la nostra logica e il linguaggio di livello alto fa tutte le traduzioni che portano poi alla possibilità di dare la corretta sequenza di istruzioni nel linguaggio macchina specifico per quel processore per quella CPU in modo che la stupida piccola macchina faccia le operazioni corrette quindi questa è la differenza tra il lavorare in linguaggio macchina e il lavorare con un linguaggio di programmazione di livello A di alto livello che è quello che facciamo noi questo fa sì che noi possiamo scrivere un programma che va bene sul processore A sul processore B sul processore C semplicemente grazie a questo strato di software in mezzo che lo adatta alle diverse caratteristiche hardware delle nostre macchine domande? non ho ben capito cosa faccia la RAM e a che cosa serve allora la RAM sta per random access memory è una memoria ad accesso erratico ad accesso casuale il motivo per cui è ad accesso casuale in realtà poi non voglio farvi perdere troppo tempo ma è ad accesso casuale anche la memoria di massa a meno che non si parli dei vecchi nastri quelli che voi vedete forse nei vecchi film anni 50 perché come dicevo prima per funzionare un elaboratore ha bisogno di gestire le istruzioni che sono memoritate da qualche parte noi riusciamo per fortuna non siamo più furbi di un calcolatore anche di un calcolatore furbo noi riusciamo a far andare il nostro cervello su piani diversi quindi noi riusciamo a parlare camminare mangiare un gelato guidare e rispondere al telefono in viva voce perché altrimenti diventa pericoloso e ci fanno e ci fanno multa e cose del genere il calcolatore fa sempre una cosa sola alla volta a meno che non stiamo parlando di un multiprocessore in tal caso allora ognuno di quei calcolatori si splitta la cosa ma si torna nel principio di base noi non abbiamo 10 CPU perlomeno il modello del nostro cervello non è fatto come un multiprocessore è fatto come un processore molto più furbo già più simile ad un quantistico più furbo di un quantistico comunque quello che serve è il e il processore come vi dicevo prima è in grado di gestire una sola parola alla volta quindi elabora gli si dice adesso ti carico questo registro e lo metti lì ti carico quest'altro registro e lo metti lì e adesso mi sommi i due lui allora sa che cosa deve che percorso deve far fare all'interno del chip ai ai al suo stato solido insomma sono non sono bit però deve gestire i bit nel modo che alla fine quello che esce sia un registro quindi una parola è la somma delle due ma per fare questo lui deve partire da delle robe che sono memorizzate e poi le deve andare a scrivere in cose che sono memorizzate e questo vale per tutti i programmi adesso non so quanti di voi non credo che abbiate aperto sul vostro computer esclusivamente vibe avrete sicuramente oltre a vibe il sistema operativo e altre dieci finestre che sono aperte o addirittura stanno andando in background allora per fare questo il processore ha bisogno di memoria tanta memoria su cui memorizzare temporaneamente ma vicino al processore tante informazioni in modo che poi queste possano essere prese e messe ancora più vicino nella cache quindi la memoria di lavoro la RAM deve essere una memoria ad accesso veloce perché in realtà stiamo parlando di cose che vengono fatte con una frequenza elevatissima stiamo parlando di un numero elevatissimo di operazioni a seconda e quindi non ci si può permettere di andare a pescare i dati direttamente da disco che ha tutta una parte di meccanica altrimenti il processore non lavorerebbe abbastanza velocemente quindi tutti i dati che sono il sistema operativo i programmi in esecuzione degli utenti quelli che voi chiamate applicazioni quelle che stanno girando sulle vostre cose devono essere memorizzate su una memoria ad accesso veloce vicine alla CPU ma non possono stare tutte intorno alla CPU perché quella sarebbe memoria costosissima se andate a riguardare la piramidina aspettate che sto andando qua dove è finita andiamo indietro niente sto andando sempre a rovescio ecco se andate a vedere la piramide sarebbe visualmente bellissimo avere una memoria cache che tiene dentro tutto a parte il fatto che poi una volta che diventa così grande diventa più difficile gestirla ma la memoria cache costa ordini di grandezza più della memoria di massa e quindi bisogna andare per le gerarchie quindi si organizza in modo che la memoria cache che è quella più vicina al CPU sia sufficientemente grande da non fare da non mandare in stallo la CPU che sta lì ad aspettare che arrivi la roba ma che quindi una corretta calibrazione delle dimensioni permetta alla cache di essere sempre alimentata da una memoria più grande meno costosa che tiene dentro tutti i programmi in esecuzione non so se sono stata sufficientemente esaustiva mi rispondi non vedo bene allora torniamo indietro dove eravamo qua eravamo qua? sì allora il sistema operativo ho appunto detto che è l'insieme di programmi in realtà una volta era un unico programma poi si sono resi conto che è un unico programma cioè ci siamo resi conto perché è una generazione a cui appartengo anch'io che è un unico programma come se suol dire monolitico creava dei problemi appunto nella gestione di un processore per esempio con più di un computer con più di un processore allora in questo caso è un insieme di programmi che permettono di gestire il computer che cosa significa gestire il computer? significa permettere l'interazione con il mondo esterno il vostro microonde dentro ha un ha un un processore che però ha un minimo molto piccolo di interazioni con il mondo esterno a meno che non ci siano che sono il display ci sono addirittura processori che non hanno quasi nessuna interazione con il mondo esterno se con il mondo interno si pensa ad un utente umano e possono avere interazioni solo con altre parti di altri computer permette di eseguire i programmi dell'utente quindi voi riuscite a mandare in esecuzione un programma perché c'è il sistema operativo che capisce che cosa deve fare facciamo faccio l'esempio voi mi sedete davanti al vostro computer e lo dovete accendere nella fase di caricamento del sistema operativo che in gergo si chiama boost up è un termine abbastanza brutto cioè significa che butta dentro il sistema e voi state lì ad aspettare a seconda di quanto sia più o meno veloce il vostro calcolatore ci potete mettere da qualche da 10-15 secondi anche qualche minuto questo serve a dare al calcolatore quindi il sistema operativo ha da al calcolatore tutti quei pezzi di programma che ne permettono l'utilizzo quindi che quando voi cliccate due volte su un'icona per aprire che so il Firefox un browser sa che interpreta nel modo corretto il doppio clic su quell'icona come in manda esecuzione quel programma e manda esecuzione quel programma ha il significato di prendere il programma dal disco mettilo sulla memoria di lavoro e poi comincia a passare alcune delle informazioni verso la CPU perché questo deve poi fare qualche cosa e quindi se non ci fosse questo programma che fa da interfaccia tra l'hardware e voi e noi non potremmo dare nessun comando al nostro sistema inoltre quello che accennavo un po' prima quando dicevo che deve decidere chi è che ha maggiore o minore autorità bilancia le risorse del sistema perché se il mio programma vuole facciamo un esempio banale voglio lanciare mentre faccio qualcosa di serio mentre scrivo un pezzo di tesi voglio sentire la musica di sottofondo è chiaro che il nostro sistema deve fare in modo che il programma che esegue la musica di sottofondo non si porti via tutta la CPU perché vi impedirebbe di far andare il programma con cui state scrivendo la vostra tesi di laurea questo è un esempio stupido ma ce ne sono mille quindi fa sì che tutti i programmi vengano mandati in esecuzione dando all'utente la impressione che ognuno abbia che ognuno stia vivendo in modo indipendente in realtà questo balancing serve che in realtà si chiama swapping fa sì che il sistema operativo passi il controllo della CPU da un programma all'altro all'altro ancora equilibrandone il funzionamento in modo da rendere il più trasparente possibile all'utente il fatto che diversi programmi stiano condividendo le stesse risorse ovviamente se uno ha un multiprocessore il balancing avrà se il sistema è fatto bene per prima cosa dividendo se uno ha quattro processori e sta funzionando il sistema operativo e tre programmi tipicamente funziona in modo super ottimale ognuno gira un programma solo ognuno esegue un programma solo invece tipicamente sono molti di più i programmi in esecuzione di quanto non siano le risorse disponibili e allora questo questo balancing si chiama time sharing anche quindi si divide in tempo di elaborazione in proporzione alla priorità e al tipo di programma che stiamo elaborando in modo che tutti i programmi funzionino come se avessero la totale attenzione del processore come vi dicevo all'inizio sullo stesso computer nel caso specifico sullo stesso pc vostro possono convivere o alternarsi diversi sistemi operativi per esempio linux insieme a windows o insieme al mac os o questi sono sostanzialmente le tre grandi famiglie di sistemi operativi di larga diffusione in questo momento e questo può avvenire come dicevo possono convivere o alternarsi convivere significa che voi avete un sistema operativo di base facciamo che sia windows su cui lanciate in virtualizzazione un altro sistema operativo tipicamente questo viene visto come un sistema operativo indipendente in realtà è semplicemente un programma che gira su un programma del vostro sistema operativo dall'altra parte vi ho appena detto che il sistema operativo è un insieme di programmi che gestisce il computer su visto che questo è un insieme di programmi se vengono costruiti bene possono anche essere costruiti dei programmi che girano che funzionano su altri sistemi operativi e fanno finta di essere il sistema operativo nativo questi possono lavorare ci sono vari livelli di virtualizzazione non sto qui a descriverli tipicamente possono lavorare con una virtualizzazione che gestisce direttamente l'hardware oppure che passa attraverso quello del sistema operativo ovvero per ottenere attenzione dall'hardware ma sostanzialmente quando uno chiude il sistema virtuale il sistema operativo è nativo come si suol dire ed ed l'alternarsi invece significa che voi potete far partire il vostro programma caricandolo dal disco quindi sul disco fisso sulla memoria di storage voi avete la possibilità di tenere sia il sistema A sia il sistema B e al momento in cui quando voi fate partire il programma invece di partire subito vi viene chiesto quindi esiste parte un micro pezzo di programma proprio minimo che gestisce pochissima parte se non quella appunto della gestione dell'andare a recuperare le informazioni sul disco e mi dice con quale sistema vuoi partire uno sceglie A sceglie B e a quel punto utilizzerà che so Linux e Windows in modo diretto quindi senza un interposto sistema operativo tra sé e il computer però non può aprire e chiudere rimanendo collegato quindi sostanzialmente il sistema di alternarsi è quello che si chiama un dual boot vi ho detto che si chiama bootstrap il sistema per caricare il sistema operativo e quindi a macchina spenta o quasi spenta quindi all'accendosi della macchina vi chiede vuoi partire con Linux o vuoi partire con Windows una volta che avete risposto il computer sarà rigorosamente solo uno o solo l'altro mentre quando si lavora in macchina virtuale si carica il sistema di base sempre e poi se occorre usare un altro sistema operativo si può far partire il sistema operativo in macchina virtuale lavorarci e chiuderlo senza bisogno di spegnere e accendere il calcolatore ovviamente il sistema della macchina virtuale è più semplice da gestire domande su questo quindi sostanzialmente io vi suggerirò di installare se non ce l'avete un sistema Linux in macchina virtuale e non in doppio bootstrap perché per quello poi bisogna fare un lavoro complicato partizionare la memoria finché non c'era l'attualizzazione era necessario farlo adesso onestamente si può lavorare tranquillamente in macchina virtuale avanti vado sempre a rovescio in realtà il sistema operativo come vi dicevo è il software che vi permette di operare direttamente sull'hardware ed è fatto in modo da mettere una bella distanza tra la macchina fisica e l'utente finale quindi isola sostanzialmente gli utenti dai dettagli dell'hardware questo è un grosso vantaggio di semplificazione della vita per l'utente e anche di maggiore robustezza del sistema perché se l'utente finale può o deve andare a lavorare direttamente sui dettagli dell'hardware può essere molto pericoloso si possono fare molti danni involontariamente quindi è meglio avere diciamo uno strato di software cuscinetto che ci permette di fare degli errori senza che la cosa si trasformi in una catastrofe per tutto il computer i sistemi operativi possono essere monoutente o multiutente il vostro frigo probabilmente ha un sistema monoutente a meno che non sia particolarmente brillante io non ho un frigorifero così nuovo e microonde lo stesso con un dual boot cambierebbe semplicemente il modo in cui sono visualizzati i gestiti ho visto una domanda adesso c'era un altro pezzo di domanda sopra cioè il dual boot non è che cambia sì non è che cambia il modo di essere visualizzati cambia proprio il modo di gestire la macchina si lavora sempre con linux o sempre con windows e per passare da uno all'altro bisogna spegnere e ripartire mentre in virtualizzazione c'è un sistema di base che funziona e voi potete aprire e chiudere la macchina virtuale senza uscire dalla senza spegnere completamente una macchina che è un'operazione che può richiedere un po' di tempo e soprattutto se avete nel frattempo qualcosa che sta che è in esecuzione sull'altro sistema operativo chiudete tutto e perdete tutto questa è la differenza grossa tra lavorare in dual boot o lavorare in macchina virtuale torno a a dirvi dei sistemi monotenti o multiutente allora i vostri tutti i vostri computer sono di casa sono multiutente non so quanti di voi lo usiate in sistema multiutente multiutente significa che ogni ognuno facciamo che sia il computer di casa della famiglia aspetta che torno bertelli ma con i dual boot si può collegare la stessa memoria di massa due sistemi operativi è il sistema operativo di entrambi cioè entrambi i sistemi operativi quando il calcolatore è spento devono stare sullo store quindi devono stare sulla memoria di massa quando accendi il computer e viene caricato il sistema operativo in un sistema dual boot ti chiede quale dei due sistemi operativi vuoi oppure parte automaticamente con uno ma ti dà un certo numero di secondi di attesa per dirgli no voglio quell'altro ma tutto sul disco ci può stare tutto come le fotografie ci stanno i due sistemi operativi sono bit scritti su disco quando stanno lì a seconda di come sono interpretati non hanno se non c'è qualcosa che li fa interpretare nel modo corretto i bit sono bit non hanno una caratteristica particolare una volta che sono semplicemente memorizzati sulla memoria di massa poi cambia il formato cambia il modo in cui questo formato viene gestito dai programmi che li analizzano torno al multiutente va bene dicevo tutti i calcolatori dei sistemi multipurpose sono anche multiutente e ovviamente multitasking cosa significa multitasking vuol dire fare più cose contemporaneamente quindi ascoltare la musica scrivere un testo intanto che sta andando in esecuzione un programma di calcolo multiutente significa che sullo stesso calcolatore con lo stesso sistema operativo con la stessa CPU con la stessa memoria possono indipendentemente uno dall'altro lavorare più utenti la differenza che voi vedrete tra quello che siete abituati a fare a casa credo a meno che hanno avviato una famiglia numerosa gestita in modo gearchico è che quando usate il vostro computer l'aprite l'accendete ed è vostro quando userete il computer della sala quello del dipartimento su cui dicevo che è a vostra disposizione per la didattica dovete autenticarvi con un vostro username e la vostra password vi viene assegnata un ramo che adesso vedremo dello spazio disco e vi verrà gestito dal sistema di gestione delle priorità della CPU la quantità di tempo di elaborazione proporzionale al numero di utenti e alle richieste che ogni utente fa sempre nel migliore dei modi per equilibrare la disponibilità di potenza di calcolo tra i vari cioè rendere disponibili a tutti gli utenti contemporanei nel modo più trasparente possibile è chiaro che se questo lo si vede di solito soprattutto quando si fanno più avanti verso la fine del corso se ci arriveremo i mini programmini di simulazione di gestione di numeri pseudo casuali che allora avete pochissimo input out e tanta elaborazione proporzionalmente ai vostri programmi se lo state usando tutti insieme il sistema diventa lento non perché il programma in sé sia più lento ma perché sullo stesso insieme di CPU o sullo stesso insieme di processori in esecuzione tanti programmi che richiedono attenzione che richiedono tanta CPU quindi molti utente ha il vantaggio che se il numero di utenti non è molto sproporzionato si utilizza al meglio si utilizza al meglio le risorse perché mentre voi imbattete sui tasti il calcolatore in realtà fa pochissimo perché i tempi vostri sono geologici rispetto ai tempi di un processore e quindi mentre voi battete un comando sui tasti in realtà il processore è libero di dare attenzione se non c'è nessun altro che la richiede sta fermo lì il cosiddetto idle time cioè passa senza far niente e invece se ci sono più utenti il sistema viene utilizzato a pieno questo serve soprattutto per processori per sistemi di calcolo potenti e costosi che è opportuno che vengano ammortizzati cui costo deve essere ammortizzato nel miglior modo possibile quindi se ci sono un numero di utenti adeguato se sono troppi ovviamente diventa inefficiente si utilizzano risorse al meglio se uno ha la macchina più potente del mondo e ci lavora da solo butta una quantità enorme percentualmente di tempo macchina il nostro sistema che sia un utente o che sia multiutente è di solito organizzato a strati è sempre organizzato a strati sotto c'è la macchina fisica sopra ci sono un certo numero di strati il numero di strati dipende dal tipo di sistema operativo comunque concettualmente sono fatti tutti quello che vedete esiste la parte che ho cerchiato che ho riquadrato in rosso che si chiama kernel che è quello che brutalmente proprio si occupa della macchina quindi la gestione kernel in tedesco vuol dire nucleo e la gestione dei processi dura e pura quindi la gestione dei processi e delle interruzioni e dei passaggi dei dati all'interno del processore poi fa parte di questo la gestione della memoria quindi prenotare allocare significa prenotare prenotare e gestire la memoria necessaria al corretto funzionamento dei processi che vanno in elaborazione e la gestione delle periferie per cui l'input output il video la stampante eccetera i dischi che sono tutte robe di input output su questo c'è una parte più soft che è quella della gestione che si chiama file system che è il controllo che serve a dare all'utente la possibilità di gestire e controllare gli accessi al file pensando da umano mentre la macchina fisica gestisce la memoria e le periferiche pensando da macchina prima vi dicevo che l'accesso alle memorie anche di massa quindi anche ai dischi al periferiche è fatto in modo random perché pensiamo al disco classico al disco da computer classico è un supporto magnetico che può essere multistrato ma ce lo immaginiamo un singolo disco perché è più facile immaginare con una testina che non tocca ma è in grado ma passa sta a una distanza molto piccola in modo da essere sensibile alla magnetizzazione e per ridurre al minimo lo spostamento che è il punto debole dei dischi la parte meccanica è la parte più lenta è la parte più debole tipicamente il disco gira su se stesso ovviamente e la testina si muove esclusivamente lungo un segmento e scrive per dare il più velocemente possibile scrive nei primi posti liberi che trova quindi noi immaginiamo la nostra lettera il nostro programma costituito un insieme continuo sequenziale di informazioni in realtà quando l'hardware viene gestito il calcolatore scrive i pezzi della vostra lettera nei primi buchi liberi che trova sarebbe come se prendesse il foglio lo dividesse in tanti coriandoli e lo infilasse nei buchi di puzzle a caso questo perché dal punto di vista della gestione della macchina fisica il ricostruire l'insieme della vostra lettera porta via meno tempo che aspettare da andare a cercare uno spazio tutto bello contiguo di locationi di memoria che ci permettano di scrivere le nostre cose è chiaro che noi non possiamo pensare così noi non riusciremo mai a immaginarci il nostro file spazzettato e sparpagliato su vari dischi del nostro storage e quindi il file system ci permette di fare interfaccia tra il nostro modo di pensare e il modo di pensare dell'hardware tanto che il file system ha poi su quello ve lo faccio vedere nella slide successiva è organizzato in modo in cui una persona normale anche nel passato prima dell'esistenza dei computer avrebbe gestito un archivio o un documento sopra il file system c'è quello che noi chiamiamo l'interprete dei comandi che quindi è quel pezzo di sistema operativo quello che dicevo prima che è a seconda del tipo del sistema che stiamo usando se parliamo di un sistema a finestre come sono tutti adesso mi permette facendo clic clic o clic a seconda del sistema su un'icona di attivare il vostro programma utente o di attivare un'applicazione o di aprire il file di gestione che poi in realtà è un programma che gestisce i singoli pezzi di gestione del vostro programma quello che fa sì che voi siate in grado di dare comprensibile a voi è tradotto per la stupida macchina che ragiona in modo completamente diverso su questo ci sono i vostri programmi quindi tutto questo che ho detto finora permette a voi di scrivere con un programma di livello alto qualche cosa che vada a mettersi sullo stesso livello delle applicazioni che vengono fornite da altri o dal fornitore del computer ma fatto apposta da voi per risolvere i vostri singoli programmi passo questo è quello che ho detto un attimo fa ve l'ho detto man mano aggiungo questa cosa che vediamo se questo ve l'ho già detto ecco il gestore della memoria come dico alloca e partiziona per i vari programmi quindi tornando a quello che dicevo prima il sistema operativo deve essere anche in grado di capire quanta memoria serve ai singoli programmi e gestirli dedicando ai singoli programmi la quota di memoria sufficiente a farlo funzionare e dividere diciamo la la torta memoria in tante parti quante sono quelle necessarie a far girare tutti i programmi se i programmi che vengono mandati in esecuzione su un singolo calcolatore sono di più di quelli che fisicamente possono dividersi la memoria in realtà il lavoro è in modo furbo l'utente si accorge solo se è esperto che sta compiendo questa operazione perché rallenta un pochino il funzionamento ma allora sposta fa il cosiddetto paging sposta parte della memoria che dovrebbe stare sulla memoria RAM quindi sulla memoria di lavoro sulla memoria primaria sulla memoria secondaria quindi sullo storage del processo che in quel momento non è in esecuzione sulla CPU per poi ripassarlo passare quindi il la memoria del processo che dovrà andare in esecuzione subito sulla memoria di lavoro questo naturalmente significa spostare verso il bus e porta via tempo però un buon sistema operativo riesce entro certi limiti a farlo pur senza impedire all'utente di mandare in esecuzione i propri programmi il file system come vi dicevo è un sistema gerarchico che è responsabile della gestione dei file nella memoria di massa perché soprattutto è responsabile della traduzione della nostra logica nella logica del computer che cosa fa un file system? vi permette di creare un file dargli un nome collocarlo in un opportuno spazio della memoria di massa quindi salvarlo da qualche parte e vi permette e permette al programma di accedere proprio a quel file quando avete bisogno di leggere e scrivere perché voi avrete mille file sul disco ma se volete andare a leggere i dati di quel file bisogna che il programma in qualche modo venga istruito ad andare a prendere quelli sono tutte operazioni che per voi sono naturali quindi voi dite caro il mio programma è quello lo lancio e devo leggere quei dati ma sono naturali per voi ma non lo sono per l'hard quello che poi le operazioni le deve fare quindi tutto questo serve a fare in modo che quello che per voi è naturale sia comprensibile all'oggetto che poi deve metterlo in esecuzione come vi dicevo un attimo fa la gestione di tutta questa gestione è totalmente indipendente dalle caratteristiche fisiche della memoria di massa il fatto che voi chiamiate il file Pippo il file Caio non significa come vi dicevo prima che ci sia una nuvoletta di memoria che si chiama Pippo e una nuvoletta di memoria che si chiama Caio di solito sono corriandoli sparpagliati da qualche parte la gestione di perché sia organizzata secondo un modello ordinato tipico appunto dell'archiviazione chi vede il mio desktop si chiede perché io apparentemente non ne faccio avuto perché avete visto che sono piena di icone anche sul desktop allora i file vengono inclusi all'interno di directory che si chiamano anche cataloghi o le vecchie care cartelle dell'ambiente windows quindi voi potete organizzare idealmente la vostra memoria di massa come se fosse un archivio un libreria voi mettete le vostre relazioni stampate dentro una cartellina dove scrivete laboratorio primo anno dall'altra parte mettete gli esercizi di fatti con guidorchi e scrivete esercizi fisica 1 e poi li mettete dentro un faldone che si chiama corsi del primo anno di fisica e la filosofia quindi una serie di contenitori all'interno dei quali voi potete immaginare di aver messo qualche cosa e questi contenitori hanno un'organizzazione ad albero quando io vi ho detto la cartellina nel faldone il faldone sul sando da una cosa più dettagliata ad una cosa diciamo che che ne comprende altre quindi è quella che si chiama un'organizzazione gerarchica che tipicamente ha una struttura ad albero che è questo quindi questa cosa qui quella non è un L corsiva ma è uno slash e il punto da cui parte tutto da lì si dirama il vostro il vostro file system ci saranno delle cartelle vedete queste sono fatte proprio come le cartelline dei vecchi archivi a cassetti che fanno parte in cui ci sono le parti bin vuol dire binary vuol dire quindi le parti del sistema operativo le librerie la parte utenti ecco supponiamo che voi siate la parte finale della parte utenti utenti che tipo di utenti staff amministratori studenti e quindi si passa dalla radice infatti si chiama root questo simbolo dalla radice alla cartella utenti dalla cartella utenti alla cartella studenti e poi ci sono tutte le possibili adesso qui ci sono delle parole a caso tutte le possibili sottocartelline questo appunto è quello che significa una struttura gerarchica come sono organizzati all'interno di questa struttura gerarchica i nostri file tipicamente in un sistema multiutente cioè praticamente sempre in un sistema multipurpose a ciascun utente è associata una directory specifica per l'utente pippo ci sarà la sua home directory che si chiama pippo ciascun file all'interno di questa directory sarà identificato da quello che si chiama un path name assoluto del file che include l'intero cammino dalla radice quella che abbiamo visto dello slash dell'albero al file il contesto di un utente è quello in cui correntemente si trova l'utente quindi faccio un passo indietro ecco passo indietro vado sempre quindi se voi siete lo studente se voi siete lo studente il quando vi collegate il vostro contesto di partenza sarà questo quindi il vostro la vostra home directory non assoluta sarà student però il valore assoluto sarà slash user slash student e poi se volete il file f sarà slash f quindi questo è uno esempio mio ci sono quindi varie caratteristiche che hanno questi file intanto in un sistema operativo basato su linux o su unix ognuno di questi oggetti che sia quella che noi chiamiamo cartella che sia quello che noi chiamiamo file che sia quello che noi chiamiamo applicazione o quel che volete viene visto come un file tutto è un file anche perché in realtà è vero ci sono dei file che hanno dentro i programmi ci sono dei file che hanno dentro i dati ci sono dei file che hanno dentro i dati per gestire la sotto directory nel caso di un sistema unix o linux se uno volesse vedere la lista completa o una parte della lista dei propri file questo come vedete è un modo tutt'altro che user friendly di vedere una lista del contenuto della propria memoria ma è quella professionale che gli dà tutte le informazioni questo vi dice anche qual è il livello di protezione che un file ha rispetto a che cosa può essere fatto su quel file voi vedete che qui c'è una stringa di letterine stupide di rwx rrxr eccetera poi ci sono dei numeri che in questo caso non importa tanto che cosa siano mi dice qual è il vostro utente a che gruppo appartiene questa è la dimensione che tipicamente può essere in byte o in megabyte o in kilobyte del vostro file la data e l'ora di creazione e il nome queste cose che hanno un puntino e due puntini in realtà sono indicazioni per dire in questa directory nella directory principale in quella sotto invece bisogna dare il nome specifico se voi guardate queste cose che ho messo riguardate di rosso vedete che la prima lettera è o una D tipicamente o un trattino nel primo caso la D indica che questa cosa didattica fisica 2014-2015 è una directory quindi è una cartella mentre questo che ha un trattino come prima lettera è un file è un file tape poi ci sono le lettere rwx che indicano quali siano il livello di accesso e quindi conseguenza il livello di protezione di questo file o di questa directory r vuol dire readable quindi può essere solo letto w vuol dire writable ricordiamoci che quando una cosa può essere scritta può essere anche cancellata quindi la protezione w cioè l'accesso w vuol dire a testo di scrittura e quindi anche accesso in cancellazione e x vuol dire executable quindi eseguibile quindi un programma una directory in realtà gestisce qualcosa fa qualche cosa che deve essere eseguibile poi chiaramente il proprietario potrà quindi l'owner potrà scrivere cancellare eseguire mentre eventualmente altri potranno solo eseguire solo leggere o solo leggere e basta quindi i tre gruppi sono proprietario gruppo il resto del mondo queste sono cose che io vi dico e che non dovete ricordare tutte oggi e tutti insieme ma fanno parte diciamo del livello di base dell'organizzazione dei vostri file io con questo per oggi finirei poi vi lascio tempo per un po' di domande adesso parliamo di reti di calcolatori perché le reti di calcolatori sono parte aggiunta nella storia dei calcolatori quindi del computing e a parte ma senza la quale voi non riuscite ad immaginare l'esistenza di un computer cioè quando sono nati i computer non erano computer messi in rete io credo che nessuno di voi possa vedere ma nel pandè non si amava il backslash invece dello slash normale no solo in ambiente windows nell'ambiente unix e negli altri è lo slash normale però concettualmente è la stessa cosa però l'ambiente windows è ovviamente proprietario e quindi è organizzato un po' diverso un copyright su quello come dicevo voi io credo che la vostra generazione non riesca ad immaginare a che cosa possa servire un computer se non è attaccato in rete in realtà ci si possono fare un sacco di cose però anche io al giorno d'oggi un computer senza rete sarei decisamente scontenta quindi in questo momento i calcolatori e la rete di calcolatori sono indissolubilmente legati che cosa sono le reti di calcolatori sono quelle che ci permettono di collegare tra loro i nodi di rete i nodi di rete possono essere ad una distanza breve o anche infinitamente grande tra di loro e forniscono quelli che si chiamano servizi di rete perché l'ho scritto in rosso tra virgolette perché in realtà sono le reti di calcolatori collegano i laboratori non tutti gli laboratori di una rete sono quelli uguali a quelli di fronte al quale voi siete seduti perché alcuni nodi sono i laboratori dedicati alla gestione di questa rete anzi questi sono i nodi fondamentali perché se il vostro calcolatore in casa smette di funzionare è un problema per voi vabbè se l'elaboratore che sta a monte della vostra città e che gestisce la rete del vostro provider smette di funzionare ci sono migliaia molte migliaia di persone che non vedono più la rete e quindi questi elaboratori che fanno solo servizi di rete non servizi di calcolo a tutti gli utenti umani che ci sono seduti di fronte sono l'ozocolo duro sono la parte importante della rete tanto che in un rete di calcolatore i calcolatori quelli che per noi sono una cosa importante sono considerate le foglie quindi la parte meno importante della gerarchia mentre sono molto importanti tutti i sistemi di smistamento che sono calcolatori su cui girano dei processi molto dei sistemi operativi specializzati e dei processi di ottimizzazione dello smistamento quindi ci sono dei sofisticatissimi sistemi di ottimizzazione dello smistamento che si occupano che sono poi quelli che in piccola parte vengono un po' copiati da chi usa fare la gestione del traffico di qualsiasi cosa dal traffico dei mezzi pubblici all'ottimizzazione del traffico stradale dei treni e roba del genere quindi questo è quello che noi usiamo abitualmente quindi noi in questo momento stiamo parlando perché io ho aperto il mio server Vibe che si connette in rete tramite tra l'altro un sistema cloud per cui voi non siete tutti collegati con me ma siete collegati con un'entità terza e tutti i vitti che passano che portano le informazioni sono smistate attraverso questa rete di calcolatori la rete dei calcolatori in questo momento è importante quanto i sistemi di calcolo le reti sono basate a livello di modello su certe topologie ci sono i modelli che sono basati a topologia a rete a stella stelle gerarchiche in realtà la vera rete in questo momento è una rete multiconnessa e quindi sono quasi tutte rete emeste comunque ci sono calcolatori che sono tra di loro connessi direttamente o calcolatori che devono che questo però tipicamente ecco quando voi fate il pairing del vostro cellulare con un altro cellulare o con il vostro computer quella è una connessione che tipicamente potreste fare anche wireless ma tipicamente la fate col bluetooth quella è una connessione tra due calcolatori connessi direttamente e in tutti gli altri casi i calcolatori sono connessi gli elaboratori come vi dicevo prima specializzati che servono a far passare i messaggi da una macchina all'altra a smistare i messaggi da una macchina all'altra in questo momento tutti i nodi collegati in rete si basano su una rete che si chiama basata sul protocollo che si chiama TCPIP e da lì vengono poi i nomi degli indirizzi che si chiamano indirizzi IP e che identificano univocamente tutti gli host che hanno una visibilità dall'esterno che cosa significa significa che per esempio in questo momento voi potete vedere il sito di Amazon ma il sito di Amazon non cioè ma io non il sito di Amazon il sito di Amazon vi vede perché voi gli mandate le informazioni per comprare o per avere informazioni possibili ma io non vedo direttamente da qui il nostro calcolatore di casa quindi tutti gli indirizzi tutte le macchine visibili dall'esterno sempre quindi che hanno un nome un indirizzo più pubblico il sito dell'università la macchina che utilizzerete per collegarvi da casa per fare gli esercizi eccetera quelle sono macchine pubbliche viste da raggiungibili da chiunque che poi per entrare devo avere degli accessi però visibili da chiunque e quindi hanno sono identificate da un indirizzo IP che può essere IP4 ovvero un indirizzo IP della versione 4 che è un indirizzo basato su una stringa a 32 bit divisa in 4 byte di cui vedete l'esempio nella penultima riga o i pv6 che sono i nuovi indirizzi a 128 bit composti quindi da 16 byte e per ovviamente quelli sono bit sono solo bit però per convenzione la viene diciamo tradotto l'indirizzo IP in 4 byte che sono messi in decimale e invece gli indirizzi i pv6 visto che sarebbe troppo lungo scriverli in decimale per tradizione sono scritti in esadecimale quindi ci sono delle d delle b perché ovviamente l'esadecimale ha bisogno di un po' più di cifre e non ci si arriva quindi ha bisogno di aggiungere delle cifre quindi esauriti le cifre da 0 a 9 si passa da b c b e f quindi il numero più grande in esadecimale che potete scrivere è a 16 byte e un f mentre ovviamente in decimale con 16 byte avete bisogno di due cifre mi sembra con questo di avervi detto tutto per oggi anche perché senza interruzione diventa abbastanza pesante poveri avete domande? siete ancora lì? non ho guardato quanti ce ne sono ancora quanti hanno esistito abbastanza non riguardo le slide di pure qualcuno ha domande anche non riguardo le slide? aspetta che quello prima mi ha sfuggito come si fa aspetta ecco così per andare a vedere no non riesco a vedere le domande sopra trovato le mette anche su youtube la lezione forse sì letemi vedere cosa mi sono persa di domande direi di sì non lo faccio io di solito cioè non siamo noi a mettere su youtube io sto registrando e quindi qualcosa di registrato c'è se la registrazione io vedo recording se la registrazione è venuta accettabile se non ho sbagliato visto che è la prima volta a inquadrare la cosa che registravo direi di sì se non la vedete è perché ho pasticciato anche perché è utile in questo momento per motivi di licenze di di disponibilità di spazi eccetera sono stiamo usando 5-6 sistemi diversi quindi facciamo gli esami con uno gli esami di dottorato con un altro le riunioni con un altro e quindi stiamo facendo un po' un po' di tutto come programma per la parte di programmazione ha una preferenza questa non ho capita Stefano di dotti non ho capito la domanda sì scusi mi sento? sì sentono anche gli altri penso di me sì volevo chiedere se lei ha un programma se ha una qualche preferenza relativo al programma che andremo poi ad utilizzare per programmare vuoi dire compilatore? sì certo sì il C ok ma questo ve l'avevo messo forse è sfuggito c'era all'inizio comunque quando comincieremo vi dico anche quale è un compilatore gratuito quindi freeware che potete installare su qualsiasi versione di sistema operativo sicuramente Linux e Unix confesso non so se esista per Windows ma tanto se voi mettete sulla macchina distruttuale lavorate lavorate con quello senza problemi ok grazie mille prego uno dei motivi per cui cioè non è un fatto personale quello nei confronti di Windows è che tutto quello che si installa su Windows deve avere una licenza e allora che cosa voi avete a casa ovviamente è un problema vostro nel senso che lo sconto che sia tutta roba assolutamente regolare però non vengono fatti i controlli ma noi non possiamo ne vogliamo farvi usare qualche cosa che debba avere debba avere dietro l'acquisto di una licenza da parte vostra e quindi non c'è motivo che vi facciamo comprare dei compilatori per Windows quando in realtà ci sono un sacco di compilatori per Linux gratuiti utilizzati seriamente in ambito scientifico che funzionano benissimo gratuitamente e legalmente gratuitamente quindi senza problemi altre domande? perché usiamo C e non C++? la domanda è buona ogni due anni mi chiedo sarà il caso che io trasli da C a C++? poi però vi vedo e visto che il C++ si è fatto bene perché il problema è che spesso si utilizza il compilatore CPU la sintassi del CPU per lavorare in maniera sequenziale come in C e allora tanto vale essere consapevoli che si sta lavorando in un sistema non ad oggetti allora il CPU è un e la programmazione ad oggetti prevede una base concettuale che richiederebbe un po' più di tempo di quello che noi abbiamo in un un po' più di tempo e un po' più di esperienza da parte vostra di quello che non abbiamo al primo anno mi sto aspettando che nelle scuole secondarie quindi da dove venite ci sia una maggiore diffusione di queste parti però molti di voi non hanno mai visto un invagio di programmazione in vita loro e quindi preferisco andare per gradi il C ha una sintassi che è quasi tutta trasportabile in C++ stiamo cercando di modificare il diciamo di fare in modo che negli anni prossimi ci siano dei corsi di programmazione avanzati ne abbiamo già fatto uno in Python c'è già un corso di programmazione in Python e che è un linguaggio più moderno con cui si fa meno scienza ma tante altre belle cose e secondo me sarebbe bello che almeno alla magistrale ci fosse un corso di C++ per cui so che le due cose possono convivere però sostanzialmente non voglio insegnarvi il C++ come se fosse C perché è una mistificazione altre domande vediamo se ci sono altre domande sarà necessario setupare anche un IDE perché no quello che voi dovete fare è mettere sul sistema un sistema Linux e installare il compilatore installare che laggiù il compilatore GCC si chiama che è poi quello del NU senza altre domande posso farne una a voi voi in siete ognuno a casa propria sul divano è una curiosità per immaginarvi quindi avete un aspetto un po' più professionale bravi no giusto per non immaginarvi in versione perfetto benissimo così vi immagino sparsi per casa sui tavoli in cucina in la scrivania perché in realtà a me un po' serve avere un po' di feedback vedervi e in questo momento io ho di fronte una lavagna bianca cosa che è abbastanza è abbastanza triste d'altra parte non possiamo fare altro spero che stiamo tutti bene per i prossimi mesi no in due non si potrebbe lo scherzo sto scherzando non dover non dover assembarvi va bene allora ragazzi se non avete tavolino messo davanti al divano va bene il tè il caffè il biscottino tra un po' mi rituerete e non vorrete più tornare a lezione va bene mi fa piacere avere questa visione un po' di cose questo pezzo semmai lo tagliamo il pezzo con i vostri commenti semmai lo faccio tagliare se lo mettiamo su youtube perché non è carismo va bene va bene cari ragazzi allora ci vediamo ci vediamo mi vedete io mi sento vi leggo giovedì alle due e mezza va bene comunque il suono mi sembra buono e quindi sembra che tutto sommato riusciamo a calarcela vi saluto chiudo arrivederci arrivederci ciao a tutti Grazie a tutti